Nella canzone romana dei primi del novecento ci fu un grande uomo, era sceneggiatore, artista, cantante, musicista, regista, produttore, insomma, ma di chi sto parlando? Di un genio! Esatto, era Romolo Balsani, il più grande, prolifico autore di canzoni romane. Pensate che ancora oggi le sue canzoni sono vive nella mente non solo dei romani, ma di tutta l'Italia. Avete mai ascoltato il suo Barcarolo Romano? Oppure i suoi fiori tra steverini? Bene, pensate che ero in Giappone a fare la tournée e quando ho cantato Barcarolo Romano, che era la quarta canzone del concerto, i giapponesi si sono alzati in una standing ovation. Pensate che forza, che emozione ancora che dà questa canzone!